Continua la protesta dei lavoratori della miniera di Bauxite a Dolmedo, fino a quando continuerà questa avvertenza? Allora, l'avvertenza continuerà sicuramente ad oltranza, fino a quando non ci saranno spiragli positivi o comunque non concluderemo un accordo, naturalmente non soltanto con la società ma con la regione che in questo passaggio è fondamentale. Ecco, non avete più avuto nessun contatto con la società? No, la società non l'abbiamo incontratta ancora, almeno per adesso, noi faremo una richiesta d'incontro così come previsto per legge, visto che ha aperto le procedure di licenziamento, giovedì incontreremo l'assessore regionale dell'industria, che è un tassello fondamentale in questa partita e vedremo un attimo gli sviluppi. Ecco, da un giorno all'altro i lavoratori hanno saputo appunto di questo avvio delle procedure di licenziamento? Sì, la procedura che ha menzionato l'amministratore sicuramente non è stata assolutamente corretta, anche perché in questi casi si apre un tavolo con le organizzazioni sindacali e si discute dei problemi per cercare di risolverlo. Ecco, che idea vi siete fatti? Perché viene chiusa l'azienda, la società? Beh, a nostro avviso sicuramente non possiamo parlare che di speculazione finanziaria. Parliamo anche di 36 lavoratori? 35 lavoratori che oggi si trovano per strada. Sono tutti padri di famiglia? Sì, tutti padri di famiglia.